Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Passando a un argomento più serio, purtroppo devo condividere una notizia che ha colpito profondamente il panorama musicale italiano. Ci è giunta la triste notizia che Francesco Natale, meglio conosciuto come Tigan nel mondo della musica e chiamato affettuosamente Ciccio dai suoi amici, è tragicamente deceduto. Questo giovane talento della musica è morto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte, proprio vicino a Capua, in provincia di Caserta. Francesco stava tornando a casa e si trovava a pochi istanti dal suo domicilio quando la sua moto ha avuto uno scontro frontale con un'automobile, una Fiat 500. L'impatto è stato estremamente violento, Francesco è stato catapultato fuori dalla moto e ha fatto un brutto incontro con l'asfalto, riportando lesioni che si sono rivelate fatali. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi e l'intervento degli operatori del 118, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare il giovane rapper, che stava per festeggiare il suo 31esimo compleanno. L'automobile implicata nell'incidente era guidata da un ragazzo di 23 anni, che, per un incredibile colpo di fortuna, è uscito illeso dall'incidente. Questo tragico evento ci lascia tutti senza parole e sottolinea quanto la vita possa essere imprevedibile e fragile.